Ancora un carro di prima categoria, quello di Giovanni Maggini che presenta questo pazzo pazzo mondo. Un giorno ci accorgeremo che è stata la cosiddetta intelligenza dell'uomo quella che ha rovinato il mondo, che l'ha fatto addirittura impazzire. Ma perché l'intelligenza è quasi sempre impiegata contro l'umanità? Perché si continua a rovinare la natura che ci circonda, inquinando tutto quello che ci capita a portata di mano? Questi i temi in satira, con la speranza che gli umani si ravvedano.